Buongiorno, buondia, qual è il suo nome? Susanna A Susanna, você é educadora aqui, da criança Bene, ci volete dedicare una canzone per tutti i nostri bambini italiani? Siamo a casa di 12 anni Esti hanno l'età di 2 anni, e adesso ci cantano una canzone Benissimo, la dedichiamo a tutti i bambini italiani Bene Tenho ma bonita Tutti i bambini italiani 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.